Spawn è un termine legato al gergo dei videogames, che significa che viene utilizzato tutte le volte che appare un nuovo personaggio, una nuova entità. Quindi nel gioco talvolta appaiono o ricompaiono delle figure e questa apparizione è Spawn. Per questo mi piaceva questa allusione, questo riferimento nella mia opera, perché i deva che catturano le immagini delle persone nel giardino della villa sono l'occasione per ciascuno di noi di lasciare una traccia, di lasciare un segno con la propria presenza, con la propria azione, con il proprio passaggio. Passeggiare in questi giorni di luglio nel parco della storica Villa Bardini di Firenze vuol dire anche imbattersi in Spawn Make the Game, opera allestita dal compositore Alfonso Belfiore all'interno di Diffrazioni, prima edizione di un festival internazionale fiorentino dedicato alle arti e alla musica multimediale. In pratica, lungo il percorso di camminamento sono posizionati alcuni dispositivi fotografici chiamati DEVA e prodotti dall'azienda di Scandici Powersoft. Questi, alimentati ad energia solare e dotati di sensori di movimento, scattano istantanei ai visitatori che vengono inviate ad un computer centrale, il quale tramite un complesso algoritmo le rielabora a tempo di musica in composizioni videografiche accattivanti e dinamiche proiettate in loop all'interno della villa.